Tutte le droghe fanno male. Solo con coraggio e determinazione si possono vivere le emozioni vere. Hai visto Mancini? Che cosa ha fatto? Ha fatto un video contro le droghe. Dai, facciamo un video anche noi. Dai. Le droghe, tutte le droghe fanno male. Bravi, fatelo girare. Tutte le droghe fanno male, ma se ne può uscire, vivete le emozioni, quelle vere.